Elicotteri in volo all'alba sul capoluogo per una maxi operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. 19 i pusher nei guai, 3 in carcere, 13 ai domiciliari, altri 3 costretti all'obbligo di dimora. Rifornivano di hashish, marijuana, cocaina e crack una sessantina di consumatori a domicilio e durante il lockdown. L'operazione denominata Delivery ha portato alla luce una diffusa rete di spacciatori, spesso collegati tra loro ma non associati, che riforniva clienti nonostante le restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica. Ciò a dimostrare l'alta capacità di adattamento di chi opera nell'illegalità. L'indagine, partita nel novembre 2019, ha consentito di disarticolare la rete dello spaccio attiva nel capoluogo e nei comuni limitrofi, ma anche con interessi estesi nella provincia di Salerno e nell'area napoletana. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno proceduto inoltre all'arresto di uno degli indagati per resistenza e minaccia contro un pubblico ufficiale. Pedinamenti, controlli e intercettazioni sono stati gli strumenti investigativi utilizzati. I pusher non esitavano a minacciare i clienti in ritardo con il pagamento. Da qui per alcuni di loro anche l'accusa di estorsione, oltre che di detenzione e produzione spaccio. In alcuni casi i consumatori erano beneficiari del reddito di cittadinanza usato per acquistare la droga. Nelle intercettazioni le sostanze venivano definite prosciutto, birra, caffè per sviare gli investigatori. L'operazione ha portato infine all'individuazione di ben tre laboratori artigianali dove veniva sintetizzata la cocaina per la produzione di crack. Gli spacciatori prendevano accordi con gli acquirenti per recarsi in luoghi prossimi al domicilio dell'acquirente per poter effettuare la consegna e ricevere il pagamento pattuito. Si tratta di spacciatori con capacità di adattamento, spacciatori con abilità in questa loro attività criminale che rapidamente gli sono adattati e hanno anche sviluppato delle metodologie per cercare di evitare i controlli delle forze dell'ordine durante il periodo di lockdown, cosa che ovviamente non è riuscito. Il crack è una sostanza stupefacente e particolarmente pericolosa, sapete bene, si sintetizza a partire dalla cocaina. Perlomeno ai nostri atti investigativi è la prima volta che individuiamo dei luoghi in cui viene prodotto il crack nella provincia di Avellino. 19 spacciatori, una sessantina di acquirenti dimostra che il fenomeno è molto esteso sul territorio cittadino, persino durante il lockdown. È preoccupante questa situazione? In realtà, come dicevo poco fa, se il fatto sia preoccupante o meno non sta in realtà a me dirlo. In realtà denota comunque una capacità, se vogliamo dire, una vitalità dello specifico settore, ecco, dello spazio del consumo stupefacenti e come dicevo prima la capacità di adattamento che comunque non si è fatta, capacità di adattamento che ha consentito di sopravvivere a questo fenomeno anche durante il periodo di mobilità limitata o diciamo preclusa nel lockdown. down.